Buongiorno, domani, mercoledì 7 agosto, ancora condizioni di tempo stabile sull'Italia per la presenza dell'anticiclone nordafricano. Ancora quindi una giornata all'insegna del caldo intenso, ma dalla sera la situazione inizierà gradualmente a cambiare, soprattutto sulle Alpi occidentali, perché saranno raggiunte dalla perturbazione numero uno del mese di agosto, che poi giovedì porterà forti temporali, soprattutto sul nord Italia. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale, ci fa vedere appunto la perturbazione che si avvicina all'Italia, ancora condizioni di bel tempo sull'Italia, infatti anche la previsione della temperatura a circa 1500 metri ci fa vedere questa bolla di aria calda che ancora insiste sulla nostra penisola, mentre l'aria fresca è individuata da queste macchie in verde che si avvicinano alle regioni occidentali. Ancora quindi avremo una giornata all'insegna del cielo sereno e poco nuvoloso, in serata appunto questi temporali arriveranno sulla Val d'Aosta, sull'Alto Piemonte e poi si estenderanno verso il biellese e il torinese, però si tratterà ancora di fenomeni piuttosto isolati. Le temperature ancora elevate, con massime tra 32 e 38 gradi, con punte fino a 39 e 40 gradi sulla Sardegna, sulle zone interne del centro e sulla Puglia. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata.